ciao benvenuti ad un altro episodio di racconti per bambini liberi oggi leggiamo marco e luca tradotto dal libro racconti montessori di marta prada marco e luca sono grandi amici passano molto tempo insieme a scuola si divertono talmente tanto che vorrebbero sempre stare insieme e tu con che amico ti diverti di più marco parla molto di luca e sui genitori luca sa tantissime cose sulle piante e luca parla tanto anche di marco marco lo fa sempre ridere entrambi pensano che sia bellissimo essere amici a marco piace tanto giocare a calcio con luca però luca preferisce giocare a nascondino luca guarda che bella palla nuova mi hanno comprato a tantissimi colori giochiamo marco non vede l'ora di giocare è sicuro che si divertiranno tantissimo però luca pensa che si divertiranno di più giocando a nascondino no oggi giochiamo a nascondino marco e luca a volte la pensa in maniera differente no io non voglio giocare a nascondino dice marco voglio giocare a calcio no a nascondino no a calcio grida marco e aggiunge io non voglio giocare mai più con te e se ne va a giocare da solo con la palla si sente furioso come un leone sente bruciare il fuoco dentro sente la rabbia ardere come un poperoncino luca piange in giardino tutte e due pensano di aver subito un'ingiustizia marco colpisce la palla sempre più forte però si rende conto che non sa a chi tirarla giocare senza luca non è divertente e luca non ha nessuno da cercare a nascondino luca sarà arrabbiato e se non mi parla più marco ha paura che il suo amico non voglia mai più giocare con lui cosa potrebbero fare per riapacificarsi dovranno superare qualche ostacolo l'ostacolo dell'orgoglio l'ostacolo della vergogna e quello della paura luca si avvicina timidamente al suo amico marco mi diverto molto quando giochiamo insieme a nascondino per questo volevo giocare oggi con te mi sono sentito molto triste quando mi hai detto che non volevi giocare io invece desideravo molto giocare a calcio con te gli spiega marco mi sono arrabbiato quando mi hai detto che non volevi giocare che ne dici se giochiamo a tutte e due le cose propone luca possiamo giocare un po a nascondino e un po a calcio vedrai che così ci sentiremo meglio tutti e due è una grande idea esclama marco nonostante tutto è stato un pomeriggio molto divertente in questo momento entrambi stanno desiderando che arrivi presto domani per poter stare di nuovo insieme e domani a cosa giocheranno sicuro che stavolta riusciranno a mettersi d'accordo grazie per averci ascoltato per non perderti le nostre storie iscriviti alla newsletter sul nostro sito www.racconti per bambini liberi.com ciao